Le istituzioni europee che si occupano di sanità puntano sempre di più sulle applicazioni per gli smartphone. Non solo per agevolare la vita ai propri pazienti su una lunga serie di questioni, ma anche per risparmiare. Secondo alcune stime diffuse dalla Commissione europea, si potrebbe raggiungere una quota di risparmio di circa 100 miliardi di euro nei prossimi tre anni. A oggi sono circa 100 mila le applicazioni disponibili, che potrebbero essere installate sui propri smartphone. La Commissione europea prevede che entro il 2017 3,4 miliardi di persone nel mondo avranno uno smartphone e che la metà di queste usufruirà di applicazioni di sanità mobile. Strumenti che potrebbero servire per esempio a misurare i parametri della pressione, controllare le somministrazioni di insulina per i diabetici, gestire la propria dieta alimentare, far ricordare ai pazienti di assumere farmaci. In sostanza sarà possibile mettere in pratica un migliore monitoraggio remoto della propria salute, dando lo stesso tempo al paziente maggiore autonomia e gravando meno sul sistema sanitario nazionale. La Commissione europea crede nello sviluppo di questo settore. Per questo ha avviato una consultazione in cui sono stati coinvolti tutti gli attori del mondo sanitario, sulla cosiddetta M-Health, la sanità mobile.